copiato copiato 30 divisione qui diego dal nord italia 7351 qui dal nord dell'italia e avanti avanti nord italia ti ascolto in avanti k si mi ascolti si si ti copio ti copio 73 qua dal nord italia qsl qsl contatto con nord italia qui operatore diego ok stazione scorpion operator fernando fernando scorpion diego dal nord italia diego simone diego dal nord italia 7351 ti ascolto santiago 9 radio 5 sembra che sei sotto casa mia copiato rr copiato anche qui c'è il sole qui fa caldo oggi molto sto facendo un piccolo video e metto poi su youtube e poi vediamo se riesce a vederlo ciao ciao molto contento del contatto ciao 73 anche te a tu qr a familiare salutami la spagna ciao